Buongiorno per Notizia Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia di Antonio Luciani, sindaco di Francavilla, oggi raggiante perché c'è la presentazione dei candidati a sostegno del candidato presidente Giovanni Legnini per l'elezione regionale del 10 febbraio. Bene, innanzitutto il suo auspicio per la candidatura di Giovanni Legnini. Beh, ho annunciato che sarebbe stata una cavalcata e mi sembra che sia proprio così, vedere ogni volta presenza di amici, presenza di curiosi che si avvicinano a questa figura, a questa grande figura che è Giovanni Legnini, fa capire che l'Abruzzo andrà in buone mani, fa capire che la direzione presa è quella giusta. E devo dire che partendo da un momento veramente critico anche a livello politico, questo nuovo esperimento, questo laboratorio politico abruzzese che non vede il PD in prima linea ma vede un grande candidato come Giovanni Legnini che riesce ad aggregare un'intera area di centro-sinistra, è una bella cosa, una bella cosa per quelli come me che ci hanno sempre creduto, che ci credono e quindi un viaggio, io sto continuando il mio viaggio attraverso l'Abruzzo, quello che avevo iniziato in solitaria, ora lo faccio come gregario per Giovanni Legnini e lo faccio veramente con il cuore e con piacere. Ebbene, lei ci può ricordare anche alcuni aspetti programmatici della candidatura di Giovanni Legnini? Ma Giovanni Legnini ha messo il dialogo al centro del suo viaggio, quindi una collaborazione con i territori, ha messo i temi ambientali in prima fascia, ha messo soprattutto la capacità di fare leggi che ha la regione che è stata poco sfruttata negli anni addietro perché una legge, per usare le sue parole, cambia la vita di una persona, io ci ho sempre creduto essendo avvocato, essendo giurista e questo mi lascia ben sperare per il futuro. Infine una breve riflessione sulle feste appena trascorse, oggi si chiudono con la festività dell'Abefana, come è andata a Francavilla visto che lei è il sindaco di Francavilla? È andata molto bene, anche se ho avuto modo anche di rimarcare il fatto che il territorio deve essere visto, non siamo delle isole ma siamo tutti collegati, abbiamo un'area metropolitana e io mi sono complimentato con il sindaco Marco Alessandrini per quello che è riuscito a fare a Pescara per la fine dell'anno, il capodanno, con due splendidi concerti che hanno attirato decine di migliaia di persone. Un'ultima annotazione la voglio fare sul fatto che oggi si è la Befana ma oggi il nostro futuro Presidente della Regione compie 60 anni e gli faccio i miei migliori auguri. Ah quindi è del Capricorno? No, come Matteo Renzi che l'11 gennaio compie gli anni e come me poi tra l'altro, quindi siamo tutti il Capricorno, lei invece di che segno è? Acquario il 7 febbraio farò 50 anni, 10 anni esatti di differenza con il nostro Presidente, l'accostamento a Renzi avrei fatto a meno di farlo. Vabbè ma sono gli anni che trascorrono, grazie a lei buon lavoro. Ciao a tutti.